Sconcerti dice che il Milan è competitivo appunto perché ha un misto etnico nella squadra che è molto diverso da altre squadre tipo l'Inter che è basata da una rosa maggior parte nata e cresciuta in Europa anche giocatori su americani sono nati in Europa comunque c'è da essere molto... no nati, cresciuti scusate, in Europa c'è da essere molto aperti mentalmente per pensarla così anche perché io sono per lo più d'accordo su quello che ha detto il fatto è che non penso sia l'etnia o il metodo di giudizio razionale che arriva dal tuo background a fare la differenza in campo io penso che sia più che altro come è fatta una persona una persona è completamente diversa da un'altra il vero punto è che il Milan seleziona persone, giocatori che facciano bene al progetto quindi non ci siano barriere, non ci siano nessun tipo di trazioni e questo è perché il Milan decide i giocatori in base al carattere e ovviamente è chiaro, anche sicuramente in base alle loro prestazioni, le performance ma senza dubbio il carattere è una cosa principale principale per questa squadra perché il Milan di Pioli è un Milan che crede è un Milan dei sogni, io lo chiamo così il Milan dei sogni è un Milan che crede, un Milan che ha fede ha fede in se stesso e la fede non arriva da sogni e speranze ma da un lavoro fatto mentalmente il lavoro mentale che l'allenatore della società ha portato a questa squadra è una cosa veramente incredibile perché se ci pensiamo, il discorso è semplice tutti danno il Milan come squadra da quarto o quinto posto se poi ci ragioniamo è anche la realtà scusate, senza cattiveria, ovviamente sono milanista anch'io ma non mi saremmo aspettato che il Milan potesse reagire in questa maniera anche ieri sera perché due serie fa scusate perché come fai andare sotto di un gol giocandoti una politica importantissima sapendo di dover rispondere all'Inter e rispondi con calma la calma cioè l'altro ieri la calma si vedeva ragazzi è incredibile cioè è incredibile è proprio una questione di di essere focus di essere di essere in grado di gestire la partita e questa è una cosa che non facevamo fino a qualche anno fa se non l'anno, forse sei, otto mesi fa avevamo già problemi di gestire queste situazioni adesso invece bene o male le si gestisce e si portano a casa i tre punti proprio per questo il mercato di quest'anno è uno dei mercati più importanti secondo me perché qualunque sia il risultato di quest'anno che ci sia tricolore sulla maglia o no è importante è veramente importante continuare con questo tipo di mentalità perché la mentalità vincente e la mentalità seria arriva da una struttura seria struttura seria e struttura vince il Milan di Berlusconi vinceva il Milan del cinese no ovviamente era uno scatafascio perché se sei serio tutto funziona tutto è bello oleato e tutto gira come deve girare quindi sia una proprietà seria sia un mercato serio e chiunque verrà a questo punto come nuovo proprietario del Milan l'unica cosa che spero e credo è che Elliot si bene si deve fare i suoi profitti sopra abbia la decenza di lasciare qualcuno che abbia la serietà come prima base come prima base sia una società seria e solida per il resto effettivamente economicamente tutte società potenti non è che non lo siano chi più chi meno ma quello che veramente conta è la serietà avere davanti una società seria che ci faccia vincere o che ci faccia comunque competere ditemi la vostra ciao ragazzi un saluto e un abbraccio forza mille